Bella ragazzi, qua è Ghiotto, ci avviciniamo a Lazio-Napoli, o meglio Napoli-Lazio, questa sera al San Paolo, ci vediamo, quindi vi do appuntamento questa sera con il video post partita di Coppa Italia, speriamo che la Lazio mi faccia un bel regalo di compleanno, perché oggi 21 gennaio compie 21 anni, quindi speriamo in un bel regalo della Lazio. Ma siamo qui per parlare di mercato, perché c'è un nome nuovo che è uscito ieri, ma già se ne era parlato già qualche settimana fa e già anche nelle stagioni scorse, ma sono sempre state solo voci. E lo sono ancora adesso, però una pista che diciamo abbastanza calda, tiepida, magari calda non ancora, ma tiepida. Chissà, proprio dopo questa partita, questo giocatore potrebbe arrivare, potrebbe. Ragazzi, io penso che alla fine la Lazio non faccia nessun colpo, a meno che non esca qualcuno. Però diciamo che questo è un nome che è uscito. Parliamo di un attaccante, gioca nella SPAL, il suo cognome inizia con la P, ma non è Petagna, eh, meno male, ma non è Petagna. Scusate, egoisticamente alla Lazio-Petagna non lo vorrei. E Alberto Paloschi ha le stesse iniziali, a P come Petagna, Alberto Paloschi, classe 1990, 182 cm, tutti lo ricordiamo al Chievo. Al Chievo era un giocatore che, diciamo che io lo vedevo, ci ha punito spesso, io il partito del Chievo le vedevo spesso, giocava abbastanza bene. Segnava diversi gol, 42 gol in 144 presenze, magari non sembrano tantissimi letti così, però nel Chievo, che è una squadra che segnava pochissimo, una squadra difensiva, sono tanti, 42 gol in 144 presenze. Ed è un giocatore che io anni fa dicevo, beh, come riserva nella Lazio ci può stare, ma era una Lazio anche un po' più debole. In questa Lazio, secondo me, Paloschi non ci sta. Poi ripeto, non è più il giocatore che giocava nel Chievo, anche perché se noi guardiamo i numeri di questi ultimi anni all'Atalanta, nel 2016-2017 ha fatto 13 partite e 0 gol. E tante presenze da subentrato, quindi proprio 0 totale. E alla Spal, è dal 2017, e ha fatto 63 presenze, 9 gol. Però tutti i gol, mi ricordo anche a fine dell'anno, gol a volte spesso ininfluenti, e in generale è stato poche volte titolare. Quest'anno addirittura 10 presenze, 0 gol. Ha segnato, mi pare, in Coppa Italia contro Lecce, però vabbè, conta poco. 10 presenze, 0 gol, è tutte presenze anche spesso da subentrato. Un destro di piede, ragazzi, diciamo, è un giocatore un po' a stile Inzaghi, ok? Un buon Verdara di rigore, non grande fisicità, è veloce, però lui è una punta centrale. Io ne ho un 3-5-2, non lo vedo. Cioè non può giocare sicuramente con Immobile, quello è escluso. Può giocare con Caicedo, sicuramente, anche perché Caicedo è più fisico, e Paloschi farebbe un po' il lavoro che magari fa Immobile adesso, perché comunque Paloschi è un realizzatore. Dara di rigore, perché da fuori non ha una grande fisicità, ha una buona corsa, però non ha il tiro da fuori, niente. Non ha neanche un grande stacco di testa, è un classico giocatore alle Inzaghi, taglio sul primo palo e gol. Sì, noi abbiamo comunque gente che Cross li mette, Lazare, lui c'è da una parte, però in un 3-5-2, secondo me, serve un giocatore che sappia fraseggiare di più, e che abbia anche più lo strappo, magari, come a De Cani. Io a De Cani l'ho visto, è un giocatore che è ancora acerbo, però lo strappo ce l'ha, c'è il dribbling, ce l'ha, è veloce, ha forza fisica. Paloschi non è quel tipo di giocatore, quindi in un 3-5-2 non è una punta che sa dialogare, che sa tenere il pallone, lancia il pallone, lo sa stoppare, sa prendere fallo, sa far salire la squadra, lo sa fare, ma non troppo bene. Quindi, io il mio parere è, un quarto attaccante servirebbe. Ma a me Paloschi non piace. In questo momento non piace, perché è un giocatore involuto, è un giocatore che lo voglia una squadra di Serie B, un giocatore che in Serie A non lo vuole praticamente nessuno, perché è anni che, ragazzi, guardiamo i numeri, dal 2016 Paloschi ha fatto 9 gol in Serie A. È un'operazione in prestito, cioè non è un investimento, sarebbe un prestito magari con diritto di riscatto, poi il valore di Paloschi adesso si aggira sui 2-3 milioni, anche perché comunque ha 30 anni, non è più giovanissimo. Lo ricordiamo, lui esordì, mi pare, proprio anni fa, nel 2007-2008, quegli anni lì nel Milan, segnò, mi pare, contro il Siena, subito dopo pochi minuti, sembrava un giocatore anche che potesse fare molto meglio in carriera, invece niente, però, ripeto, io preferirei quasi Yalou, vi dico la verità, per caratteristica un giocatore che si sposa meglio, secondo me, nel 3-5-2, per rimanere con tre attaccanti, sì, Paloschi in prestito lo prenderei, cioè, ok, però non è un giocatore che mi piace, io andrei su altri giocatori. Comunque fatemi sapere la vostra nei commenti. Poi, per quanto riguarda la partita di stasera, Napoli-Lazio, le provabili formazioni, ragazzi, Luis Alberto non convocato, brutta notizia, speriamo, recuperi per il derby, comunque, Stracoccia in porta, Bastos, che sta fornendo ottime prestazioni ultimamente, sulla destra, Luis Felipe al centro e Acerbi sulla sinistra, perché Rade è uscito anche malconcio con la Samp, quindi Acerbi è spostato a sinistra, sappiamo che lo sa fare, Luis Felipe al centro l'ha fatto, a me non mi dà quella sicurezza, Luis Felipe al centro, però va bene così. Lazeri a destra, Milinkovic, Leiva, Parolo, al posto di Luis Alberto, Lulic rientra, è un rientro, secondo me, importantissimo, poi la Coppa Italia è un po' alla fine il suo terreno, e poi Ciro Caicedo, perché Correa, sì, era in panchina già con la Samp, però non verrà rischiato, magari sicuramente a partita in corso, perché Correa probabilmente verrà schierato, in coppia con Immobile, nel derby con Caicedo, chissà pronto a subentrare. Comunque ragazzi, partito difficile stasera, siamo favoriti, ma comunque anche una pecca, diciamo, tra virgolette, essere favoriti, perché abbiamo tutto da perdere, mentre il Napoli ha tutto da guadagnare, perché il Napoli, secondo me, la Coppa Italia non ci punta neanche tantissimo, anche perché ha una situazione in campionato veramente critica, ancora la Champions League, però dovesse vincere il Napoli, alla fine le critiche sono tutte su di noi, perché in questo momento siamo sicuramente più in forma e più forti del Napoli. Comunque, ci vediamo stasera col post partita, bella.